La direttiva MIFID 2 si pone l'obiettivo di una maggiore tutela degli investitori attraverso l'introduzione di norme che aumentano il livello di trasparenza, l'adozione di nuovi controlli per valutare l'adeguatezza dei prodotti finanziari rispetto al profilo di rischio del cliente, l'obbligo di strutturare i prodotti in funzione della tipologia di cliente finale, considerandone esigenze, caratteristiche e obiettivi, la totale trasparenza dei costi e oneri a carico del cliente. Per alcuni questo scenario rappresenta una novità con cui imparare a fare i conti, la fine di un'epoca dorata. In Fineco invece MIFID 2 rappresenta un'opportunità per valorizzare ancora di più i nostri servizi di consulenza e il nostro stile professionale. Già nel 2008 puntando sul nostro servizio di consulenza a parcella Fineco Advice ci impegnavamo nella proposta di un rapporto trasparente con il cliente, il costo della consulenza chiaro e fissato in anticipo, la realizzazione di più portafogli di investimento, uno per singolo obiettivo, sempre allineati al profilo di rischio del cliente. Inoltre il servizio Advice prevedeva già l'impegno della banca a monitorare costantemente i portafogli e a fare proposte di ribilanciamento solo quando necessario. Negli anni abbiamo dotato i nostri consulenti di prodotti e servizi di alto livello, dei più avanzati strumenti tecnologici e del supporto di team di analisti specializzati. La consulenza Fineco si è affermata sul panorama finanziario come un esempio di qualità, affidabilità, innovazione e trasparenza. Non ci limitiamo a offrirti prodotti o servizi, ma mettiamo a tua disposizione un vero e proprio stile professionale. Dal 2008 ad oggi la nostra evoluzione non si è mai fermata, ma dietro le tante innovazioni la nostra filosofia non è mai cambiata e non ha bisogno di cambiare neanche oggi. Fineco, la banca che semplifica la banca. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le condizioni relative ai servizi pubblicizzati occorre fare riferimento ai fogli informativi e alla documentazione informativa prescritta dalla normativa vigente disponibile sul sito www.finecobank.com e presso i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede Fineco. Tutti i servizi offerti presuppongono l'apertura di un conto corrente Fineco. Fineco Advice è il servizio di consulenza in materia di investimenti a pagamento dedicato ai correntisti della banca e offerto tramite la rete di consulenti finanziari Fineco.